Scarica! Sì, non vuole andare di là, perché... Sì, non vuole andare di là, perché... Sì, non vuole andare di là, perché... Difesa, ragazzi! La difesa, ragazzi! Dai, ragazzi, dai, dai! Le furie rosse! Vai, Gianlu! Mamma, 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 sai perché mi fate il corazzone? Ho visto l'Andriano, ho visto l'Andriano, e mamma, mi dà volato solo... Tutto ha la curva! Non spingere! Non spingere! Vai, Gianlu, dai! 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 Dai, rimbalzo! Dai, rimbalzo! Ragazzi, ragazzi! Dai, ragazzi, bravi! Buona difesa! Buona difesa! Fatela girare! Buona difesa! Buona difesa! Buona difesa! Va bene! Bravi ragazzi! Buona difesa! Va bene! No! 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 A posto! Dai ragazzi! Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi! Non sbagliate due e facciamo il fallo sulla terza, no! No! Oh! 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 E la mette pure di tabella! E l'ha anche messa di tabella! Buono! Bravo! Oh! 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 placcato da giovanni Grazie a tutti. Grazie a tutti. Molita bella, occhio. Dai ragazzi, black out. Black out. Vai. 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 Vai.